Nei supermercati sono ricomparsi quei cartelli che per alcuni prodotti invitano a non abusarne, non comprare in quantità eccessiva prodotti di primaria necessità. In alcune zone ci sono fatti addirittura i primi casi di corsa all'acquisto forsennato. Era successo anche due anni fa, ricorderete quando nell'aria c'erano le prime avvisaglie di quel lockdown che poi fu messo in campo per arginare la fase iniziale della pandemia da Covid-19. A far paura invece i giorni nostri sono gli echi di guerra che arrivano dall'Ucraina. Questa sera a Orizzonti su Milano Pavia TV proveremo a capire che legame c'è tra la paura e i consumi, i comportamenti della gente, ma soprattutto cercheremo di capire com'è che per una pandemia o una minaccia di guerra ci sia l'aumento immediato di alcuni prezzi. Bene sarete accorti, quelli del carburante e i costi della bolletta energetica sono schizzati immediatamente all'insù. Ma non soltanto in alcuni settori della macroeconomia ci sono ripercussioni ai venti di guerra di questa stagione. Anche la tazzina del caffè potrebbe presto aumentare e direte voi cosa c'entra la colazione con tutto questo? Cecheremo di capirlo con i nostri ospiti. Tra un attimo. Bentornati a Orizzonti come ogni lunedì sera in diretta su Milano Pavia TV. Questa puntata più che mai sul filo dell'attualità avevamo appena lasciato alle spalle l'emergenza Covid che già una nuova paura sta attanagliando l'Occidente intero ed è legata ai venti di guerra che ormai da tre settimane espirano con un bilancio di vittime anche civili che va crescendo di giorno in giorno nell'est Europa e in Ucraina. Immediate le reazioni dicevamo in ambito economico, negozi che si svuotano, prezzi di alcuni prodotti legati in modo particolare al campo energetico che aumentano e in tutto questo la paura di una nuova recessione a spezzare le gambe di una ripresa che invece fino a poco tempo fa gli esperti vedevano ancora nitida nel nostro immediato futuro. Gli ospiti che abbiamo coinvolto per questa puntata di Orizzonti ci porta subito la presentazione a Milano dove con noi c'è il presidente di Fipe Confcommercio che è l'associazione di categoria che raggruppa gli esercenti in modo particolare bar e ristoranti Lino Enrico Stoppani buonasera e benvenuto. Grazie per l'ospitalità buonasera. Collegato da Genova o meglio dall'abitacolo della sua autovettura perché lui è in movimento Massimo Sassi è il presidente di Fipe Confesercenti Lombardia. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Fipe è una delle più importanti associazioni di categoria che raggruppa i gestori di imprese e pompe di benzina. Parleremo di carburanti molto in questa nostra puntata. Saluto Stefano Bruni che è il segretario generale di qui a Pavia di Confartigianato. Buonasera. Grazie. Parleremo delle piccole e medie imprese che devono fare i conti con l'altra faccia dei rincari, quelli legati al riscaldamento. Lo saluto e lo ringrazio per essere con noi ospite il senatore Gianmarco Centinaio a rappresentare la politica. Buonasera. Buonasera. Con lui cercheremo di capire quali sono le azioni messe in campo con un occhio di riguardo poi anche alle tematiche agricole perché capiremo che nella filiera dei rincari anche quello che mettiamo nel piatto può avere delle ripercussioni in tal senso. Non so se è già collegato da Roma. Eccolo qua. Rosario Trefiletti, leader dei consumatori italiani. Buonasera e benvenuto a Milano Pavia TV. Bentornato. Sta armeggiando col suo telefono. Probabilmente non ha ritorno audio ma lo raggiungeremo molto presto. Vi presento anche in collegamento da Lecce il professor Luigi Spedicato. Lui insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università del Salento. Professore, buonasera. Buonasera a lei, a tutti gli ospiti e gli spettatori. E naturalmente noi quest'oggi racconteremo anche delle storie perché noi giornalisti molto spesso generalizziamo ma poi quando raccontiamo i vissuti di chi certi problemi li ha sulla propria pelle è lì forse che si davvero può capire l'entità di un disagio. Per esempio chi deve fare tutti i giorni il pieno di carburante al proprio camion e vede andare all'insù all'impazzata le cifre del distributore e beh io credo che stia vivendo dei giorni piuttosto complicati. Con noi in collegamento, anzi in studio, c'è Gabriele Saccardi che è un autotrasportatore. Benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Poi ci racconta com'è la situazione dal suo punto di vista. Mentre collegato da Stradella sulle colline dell'Oltrepo abbiamo un ristoratore. Anche questa è una categoria che sta vivendo chiari di luna abbastanza preoccupanti sotto molti punti di vista. Marco Viglini, buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E con noi c'è anche Massimo Sala. Bentornato Massimo. Grazie, buonasera. Tanti gli ospiti anche questa sera. Spero di non aver dimenticato nessuno, cosa che molto spesso succede, ma quando gli interlocutori sono tanti diventa anche poi molto complicato non perdere di vista. Allora, io vorrei partire proprio da Lino Erico Stoppani perché negli ultimi giorni dei titoli di giornali, io credo abbiano attirato l'attenzione dei nostri ascoltatori perché ci confermano come anche riti semplici, come la colazione al bar, in qualche modo può risentire dei venti di guerra e del rincari delle materie energetiche. Intanto, Presidente Stoppani, so che per la vostra categoria erano stati mesi difficilissimi, quelli del lockdown. Adesso c'era quasi un inizio di ottimismo che si stagliava sul volto di molti operatori. Temo che la situazione attuale induca a una cautela con i piedi per terra, o sbaglio? Più che cautela è preoccupazione, insomma, perché lei ha ben presentato il tema, insomma. Questa è una crisi che manifesta tutta la sua natura poliedrica. Abbiamo appena finito di risolvere, comunque stiamo tamponando un grandissimo problema a quello collegato alla crisi sanitaria, grazie anche ai vaccini, che ha consentito di dare una prospettiva dal punto di vista sanitario a questo Paese. Quando se ne sono aperte altre, magari anche più gravi, collegate ai venti di guerra che arrivano al fronte russo-ucraino, che creano certamente problemi di carattere umanitario, collegato ai problemi dei profili, alle vittime, agli aspetti sanitari di cui tutti i medici si stanno occupando, con le derivate di natura economica che sono di varie naturi, insomma, certamente collegate alle sanzioni e che hanno poi effetti sul nostro settore, in termini di effetti sul turismo. In studio e saluto c'è Gianmarco Centinai, insomma, ex ministro, persona qualificata, esperta, su questi argomenti certamente ne sa più di me, ma lui sa benissimo, e come tutti i telescrittatori e certamente anche lei, che questi fenomeni creano degli effetti diretti ed indiretti. I primi effetti, insomma, sono certamente sul turismo, dove l'Italia non è vista più come un luogo sicuro con una probabile deviazione di flussi turistici verso altri territori, verso altre aree, oltre ad aver perso quella importante fetta di turismo collegata ai turisti russi, un miliardo di Euro su 44 miliardi, che può anche dire poco, ma se vediamo che questi miliardi è concentrato soprattutto su alcune località tipo Forte di Mano in Versiglia, piuttosto che la Corte d'Ameralda, insomma, sono cifre spaventose, almeno per quei posti. L'altro aspetto è le derivate di questa crisi che toccano certamente i temi dell'inflazione collegati al caro energia, collegati ai temi dell'inflazione che produce evidentemente poveri effetti sui prezzi, incidenti su quello che è il potere d'acquisto della materia, su quello che è poi l'entità dei depositi, depositati dai risparmiatori, che comunque crea un abbassamento del sentiment che è uno degli elementi fondamentali per favorire il consumo. Qui certamente è una situazione molto complicata, dalla quale evidentemente si può uscire solo grazie ai risultati della diplomazia internazionale che è attivata, ma questa è una situazione che tra l'altro si innesta, a meno per quanto mi riguarda, su un settore devastato da due anni di Covid con i danni in termini di perdita di fatturato, impediti di occupati, in termini di mortalità delle altre imprese, di cui facciamo fatica a uscirne e per cui piove sul bagliato, come si dice in termini popolari, ma è un detto corretto per dimostrare e dichiarare la fragilità e la disperazione di un settore che ovviamente farà fatica a riprendere quelli che sono i numeri pre-Covid. Presidente Stoppani, lei mentre parlava prima la regia ci ha mostrato una carrellata di titoli che in questi giorni anche i nostri ascoltatori magari avranno incrociato sui giornali, dà proprio l'idea di come si sia creata per la vostra categoria, ma non che sia motivo di conforto, vale anche in molti altri ambiti dell'economia, la classica tempesta perfetta. Lei faceva riferimento al calo dei visitatori, ovviamente, però nel frattempo a incidere c'è l'aumento delle materie prime, l'aumento della bolletta energetica e il fatto che anche i consumatori italiani si sono ritrovati a dover far di conto, perché molti iscritti, anche immagino della vostra associazione di categoria, di fronte all'aumento delle bollette energetiche, di fronte all'aumento delle materie prime, hanno già dovuto in qualche modo provare a ritoccare i prezzi. Quindi messi insieme tutto questo, anche la colazione al bar rischia per qualcuno di essere, non dico un lusso, però uno inizia a farci due conti, glielo dico perché io sono un assiduo frequentatore di bar e a me è capitato di incontrare molti baristi, molti gestori, dire ma lo sai che chi veniva magari a bere tre caffè al giorno, adesso viene a berne solo due, uno addirittura magari non fa più la colazione, può sembrare una sciocchezza, ma a volte forse anche complice la situazione psicologica che si sta vivendo proprio per questo clima oscuro che in qualche modo ci avviluppa tutti e uno dice sai che c'è, io i soldini me li tengo in tasca, è una situazione piuttosto complicata questa secondo me da dipanare. Lei ha toccato due aspetti, il primo è sicuramente un fattore economico, un aumento dei prezzi evidentemente soprattutto in questa fase crea una diminuzione del potere d'acquisto delle persone, per cui data quella che è la possibilità economica di un soggetto, nella misura in cui aumenti i prezzi diminuisce il potere d'acquisto di queste persone e questo in qualche modo deve essere poi riparmentato per trovare i propri nuovi equilibri economici al bilancio personale. Ma un altro, ancora l'aspetto più grave è il sentiment, perché le persone spendono certamente per quelle che sono le possibilità economiche che derivano dal rendito di lavoro, le rendite finanziarie o comunque la situazione economica individuale, ma anche dalle prospettive e quello che è il sentiment è fatto su quelli che sono i scenari, le prospettive, che se sono nella dimensione attuale, scenari avversi, di grande preoccupazione, con delle prospettive incerte anche sul fronte della tenuta di quella che è la sicurezza dei nostri paesi, evidentemente creano quell'effetto risparmio, la gente in situazione di incertezza non spende e il grave che non spende sono le persone che hanno qualche difficoltà di natura economica, ma quando ci sono queste situazioni non spendono tutti, per cui si fa con l'effetto tesorizzazione che porta poi per esempio nel 2021 i dati che esprime Banca d'Italia con un eccesso di liquidità depositata per le banche, ma che sono giustificate anche da quello che è venire meno dalla propensione al consumo che è condizionata anche dal contesto in cui le persone operano, per cui le osservazioni che fa sono pertinente e sicuramente la situazione di incertezza, di preoccupazione con la quale si fotografa il futuro delle nostre comunità sicuramente condiziona i consumi, anche delle piccole cose come possono essere considerate, come aveva incitato lei, il consumo del caffè al bar. Poi torno da lei, Presidente, so che può trattenersi soltanto per pochi minuti, le chiedo di pazientare un attimo, vorrei coinvolgere il senatore Centinaio, sottosegretario all'Agricoltura, è stato Ministro dell'Agricoltura, fa parte di quei dicasteri strategici nell'ambito economico per un paese come l'Italia che vive, sì, dei prodotti della terra, del made in Italy, vive anche della capacità di accogliere i visitatori e i turisti, no? Ecco, questa è davvero la sfortuna, possiamo dircelo tra di noi, perché forse stavamo per voltare pagina dopo due anni drammatici, non soltanto per gli effetti sanitari del Covid, ma per tutte le conseguenze che c'erano, adesso si crea questa nuova tensione internazionale. Il problema è che le storie che noi racconteremo stasera sono fatte di persone che hanno bisogno di risposte immediate e puntuali. Puntuali vuol dire c'è l'annuncio dei provvedimenti del governo, ma l'ideale sarebbe che immediatamente arrivassero i ristori. E noi sappiamo come purtroppo non sempre, al di là della buona volontà di chi governa, si riesce a creare questo circolo virtuoso. Da questo punto di vista, che scenari avete previsto voi al governo per cercare di dare risposte il più possibile immediate a chi questa sera chiede aiuto? In questo momento il problema maggiormente all'ordine del giorno è il problema del caro energetico, e quindi anche per quanto riguarda tutta la partita relativa ai carburanti. E quindi il lavoro che stiamo facendo e che stiamo cercando di portare avanti è quello di ridurre il più velocemente possibile le accise in modo da permettere ai nostri connazionali di poter, e lo dico a 360 gradi, perché non è una cosa che riguarda semplicemente solamente le attività imprenditoriali, ma riguarda anche tutti noi nella nostra vita quotidiana. Dal benzinaio ci andiamo tutti, a meno che non andiamo in giro, solo in bicicletta o a piedi. E quindi il lavoro che dobbiamo fare è quello di ridurre drasticamente le accise. Bisogna trovare i fondi, bisogna trovare i soldi, perché non è che si fa così col schioccare delle dita. Riduciamo le accise e le accise si riducono. Riduciamo le accise e dobbiamo contemporaneamente trovare o minore spese o maggiori entrate da un'altra parte. L'opzione che stiamo valutando è quella della maggiore tassazione nei confronti di chi in questo periodo ne ha beneficiato maggiormente, o di chi sta, come sta dicendo il Ministro Cingolani, a torto ragione, sta un po' speculando su una situazione che stiamo vivendo in questo momento. Io non lo so se si sta realmente speculando o no. Dico però che la cosa che ho visto è, nello stesso benzinaio, nel giro non di qualche giorno, nel giro di qualche ora, all'interno della stessa giornata, aumentare il carburante di 15 centesimi. E di conseguenza io non penso che sia dato solamente dalla guerra russo-ucraina. Perché se tanto mi da tanto, io continuo a pensare che, e qui vado nell'argomento di mia competenza, penso all'agroalimentare, penso che la speculazione c'è. Forme di speculazione ci sono. Sul grano ci sono forme di speculazione che arrivano dal 2021, neanche dal 2022. Dal 2021 sappiamo benissimo che 2021, per esempio sul grano, che è uno degli argomenti di maggior attenzione che c'è in questo momento, nel 2021 è stato un anno orribile per quanto riguarda il grano. C'è stato un calo nella produzione mondiale media del 30%. Il grano rimanente, c'è stata una grandissima speculazione internazionale da parte della Cina che si è accaparrata il grano rimanente e soprattutto ha fatto speculazione sul grano che verrà prodotto nel 2022, acquistando in anteprima il grano di quest'anno. E quindi ci troviamo con il grano che in questo momento causa guerra russo-ucraina, perché comunque la Russia e l'Ucraina sono due paesi che ne producono e sono grandi esportatori, in questo momento ci troviamo meno grano a livello mondiale. La Russia che se ne ha, scusate, la Cina che se ne ha accaparrata tanto, la Russia e l'Ucraina che si stanno facendo la guerra e quindi ce n'è molto meno. Il lavoro che dobbiamo fare, per esempio sulla parte agroalimentare, è quella di sbloccare alcuni mercati e far sì che soprattutto noi, e qui quindi ho una visione anche un po' più a medio-lungo termine riguardante i prossimi mesi, ma anche i prossimi anni, noi torniamo a essere uno dei granai d'Europa, perché noi lo eravamo, l'Italia lo era uno dei granai d'Europa, penso al mais e penso al grano, grano tenero e grano duro. Negli anni si è deciso, un po' la politica, un po' le operazioni di mercato, si è deciso che all'Italia non interessava più produrre grano, e all'Italia non interessava più produrre mais, perché dalle paesi extraeuropei arrivava mais che costava molto meno, perché c'era la Russia e l'Ucraina, perché c'era il Canada, perché molti agricoltori italiani non avevano una grandissima visione a medio-lungo termine, quindi se le aziende che producono pasta ti chiedono un determinato tipo di grano, tu non puoi produrre un grano totalmente diverso, perché non te lo compra nessuno, e di conseguenza anche qua c'era stata un po' una diatriba all'interno della filiera del grano. Ci ritroviamo con anni di sottovalutazione del problema e con questo prodotto che lo andavamo a pescare da fuori Europa. C'è di più, noi in Italia in questo momento abbiamo un milione di ettari liberi, liberi, che potremmo utilizzare velocemente, bloccati dall'Europa, per la rotazione, per vari motivi, per questa parola che si chiama tutela dell'ambiente, che abbiamo fatto una PAC, che è la politica agricola comunitaria, che era una PAC che doveva servire a tutelare l'ambiente, come se fossero gli agricoltori gli unici che inquinano. Oggi come oggi ci troviamo i terreni incolti, da un lato incolti perché non conveniva, dall'altro lato incolti perché l'Europa ci dice di tenerli incolti, e abbiamo bisogno di terreni liberi. E quindi domani, proprio tecnicamente domani a quest'ora, col Ministro sarò seduto al tavolo a lavorare, a parlare, a cercare di capire cosa si riesce a sbloccare, che mercati si riusciranno a sbloccare, e soprattutto quanti fondi riusciremo a spendere per dare una mano agli agricoltori e produrre il più velocemente possibile. Eh sì, ovviamente si deve poi gestire in corsa quando ci sono emergenze di questo tipo, e avrete notato che, come era successo con il Covid, anche questa crisi, ma ho paura che varrebbe per qualunque emergenza dovesse capitare d'improvviso su questo Paese, hanno un effetto sindemico sul nostro Paese, cioè fanno emergere tutti dei problemi che in momenti normali noi manco li consideriamo perché siamo abituati ormai a conviverci. È evidente che quando qualche equilibrio si spezza, tutti i problemi per anni non gestiti o mal gestiti emergono e fa emergere ancora, scusate il besticcio di parola, l'assoluta inadeguatezza purtroppo di questo nostro Paese. Grazie, grazie senatore. Volevo coinvolgere il professor Spedicato, che è collegato da Lecce. Lui è un sociologo. Credo possa aiutarci a capire, il presidente Stoppani ha più volte evocato il sentimento, lo stato d'animo degli italiani, che in questo momento, usciamo con le ossa rotte da due anni di pandemia, arriva la guerra, è evidente che siamo un po' col morale a terra. In che modo questo stato d'animo direttamente poi ha delle ripercussioni sull'andamento dei consumi? Vede, direttore, io cito il titolo della sua trasmissione, che è Orizzonti. Non sono in Italia solo i consumi ad essersi ristretti, sono proprio gli orizzonti di vita, della vita quotidiana degli italiani. L'orizzonte che si chiude toglie prospettiva, toglie fiato, toglie l'idea stessa di futuro. Nel futuro ci si schiaccia sul presente, e allora assumono rilievo i piccoli comportamenti che venivano citati prima dal presidente Stoppani, rinunciare a un caffè, rinunciare a fare un viaggio. Questo è il senso della chiusura degli orizzonti. E non è un dato che sia facilmente superabile, perché vede la paura, l'ansia, l'assenza di futuro, sono componenti fondamentali della nostra idea di cittadinanza. Quello che sto notando in questi giorni è un affievolirsi forte di quel senso di unità che noi avevamo sperimentato nella prima fase della pandemia. Lei ricorda quei lenzuoli appesi alle finestre, ai balconi? Andrà tutto bene. Poi l'abbiamo persa per tante ragioni nel corso della seconda fase della pandemia. Ecco, adesso gli italiani sono convinti che non tutto andrà bene. E non parlo del rischio di essere coinvolti in un conflitto bellico, vero e proprio, con le nostre città che diventano bersaglio, come le martoriate città dell'Ucraina, di attacchi. No, parlo di questo non sentirsi il terreno sotto i piedi. C'è un dato che più di altri testimonia di questa assenza di futuro. Siamo ai livelli più bassi, ce l'ha detto l'Istat proprio oggi, probabilmente domani troveremo gli articoli sui principali quotidiani. Siamo ai minimi storici, da quando sono iniziate le serie statistiche, del numero di nati in questo paese. Siamo circa intorno a 400.000 nuovi nati. L'Italia perde abitanti. Ecco, questo è un indicatore molto molto sensibile. È un sismografo che avverte scosse profonde nell'interno, nel corpo grande della società italiana. Perché vede, se c'è un modo che l'umanità ha sempre saputo praticare per immaginare il proprio futuro, quella è fare un figlio. La diminuzione del numero di bambini che nascono in questo paese indica chiaramente questo chiudersi dell'orizzonte su un presente che non promette nulla di buono, eppure è talmente pago, talmente oscuro da decifrare, da lasciare non un senso di paura, ma un senso di sbigottimento, una paralisi dell'agire individuale e collettivo. Ecco, questo è lo scenario che in questo momento l'Italia presenta e vede, fra i titoli che lei ha presentato prima, colpisce quello del giorno, la gente è abbattuta, scrive il quotidiano, manca l'allegria. Ecco, vede, è una sintesi molto molto efficace. Direi che nessun sociologo avrebbe potuto scrivere meglio per descrivere la condizione dell'Italia in questo momento. E allora, grazie, grazie professore. Poi torno da lei. Io chiedo un minuto di pazienza alla Presidente Stoppani perché so che lei ci deve lasciare, però io ho incombente una fascia pubblicitaria che per noi emanna, perché soprattutto di questi tempi avere investitori che sostengono l'editoria, in questo caso un emittente libera come questa, è un tesoro prezioso che non posso perdere. Torniamo tra poco a Orizzonti su Milano Pavia TV con i nostri ospiti. Grazie. Bentornati a Orizzonti. Questa sera parleremo qui su Milano Pavia TV dell'ondata di rincari che si è abbattuta sull'Italia, tanto quanto la prensione internazionale per la guerra russo-ucraina, ma parleremo di come complice l'economia attuale in una società che è globalizzata. Il caro carburante sia collegato, per esempio, anche al prezzo di un rito abituale come potrebbe essere la colazione al bar o la cena al ristorante. Poi racconteremo le disavventure di chi con il carburante alimenta tutti i giorni il proprio mezzo di trasporto, che però è anche uno strumento essenziale per lavorare. Eravamo in debito di un collegamento con il Presidente di Fipeconf Commercio Stoppani, anche perché, Presidente, nei titoli che la regia prima ci ha proposto abbiamo visto anche uno spaccato di come molti rappresentanti dei ristoranti, ma anche dei bar, stiano cercando di gestire l'emergenza. C'è chi rinuncia al riscaldamento, c'è chi deve ritoccare i listini e su tutti gli espedienti, perché immagino che sia necessario prevedere delle misure in qualche modo di sistema. Voi come Conf Commercio, cosa chiedete? Avete già chiesto qualcosa per sostenere le vostre categorie, i vostri associati? Assolutamente sì. Faccio complimenti al Professor Speditato, perché quando ha parlato del sentiment, ha collegato anche una declinazione diversa rispetto al sentiment sui consumi, parlando degli aspetti demografici, insomma, dietro il quale poi ci sono anche degli effetti su quelli che sono evidentemente una spesa pubblica, una spesa pubblica destinata sempre di più alla sanità, piuttosto immediatamente agli investimenti formativi, di istruzione a queste cose. E poi mi insegno, insomma, che nella misura in cui cresce l'età della popolazione, diminuiscono anche i consumi, perché sono i giovani che consumano. A parte questa considerazione, come priorità in una situazione emergenziale come l'attuale, noi stiamo chiedendo al governo essenzialmente tre cose, e il sottosegretario di Centinaia lo sa benissimo. Il primo è un problema collegato alla liquidità delle imprese. Usciamo dal Covid con il fardello del debito, che è una sostanza tosica, se non ben gestita, in una situazione come l'attuale, già pesantissima dal punto di vista della tenuta della sostenibilità delle nostre imprese, provvedimenti sulle moratorie, bancarie, fiscali, contributive, che stiamo chiedendo, sono il minimo che si possano concedere per evitare che cresca il tasso di mortalità delle imprese. Perché morte le imprese, poi si crea anche quel problema di coesione sociale, che è anche una delle patologie collegate alla crisi di quello che è la rete distributiva di questo paese. D'altro aspetto, l'ha detto bene il sottosegretario di Sentinari nella sua osservazione, attenzione ai fenomeni inflattivi, dove c'è anche molta speculazione, dove certamente, se quelli che sono determinati acquisti sono inevitabili, determinati acquisti e determinati aumenti sono inevitabili, su molte partite c'è evidentemente molta speculazione, il Ministro ha fatto riferimento in future sui cereali, su queste cose, ma sappiamo che una delle commodity oggetto di grande speculazione è anche lo stesso prezzo del caffè, dove la materia prima grezza, nel giro di pochi mesi, è schizzata da 135-270 dollari ogni 50 kg e poi evidentemente lo paghi nella tazzina del caffè di ogni mattina. Il terzo aspetto è collegato a degli aiuti alle imprese, non solo in termini di liquidità, ma anche in termini di sostenere questa situazione emergenziale, per cui da una parte sicuramente il caro energia, il governo ha già messo 16 miliardi per attutire quelli che sono gli impatti sulla bolletta energetica delle imprese e delle famiglie, è chiaro che questa situazione è oggi certamente la priorità, per cui su questi fronti la liquidità, attenzione ai fenomeni inflattivi e al caro energia ci giochiamo in nostro futuro e noi speriamo che sia anche un futuro dove le imprese possono continuare ad esserci, perché se sei imprese insomma non c'è poi quello che è il benessere allargato che arriva anche dal lavoro che è l'unica ricchezza sulla quale dobbiamo investire. Assolutamente, non si può che essere d'accordo con questo suo auspicio, bocca al lupo naturalmente a tutti voi e speriamo davvero di riuscire al più presto a voltare pagina e avere davanti a noi orizzonti meno cupi. Grazie a Lino Enrico Stoppani, Presidente nazionale di FIPE Confcommercio, la lascio alla sua serata, so che ha altri impegni, buon lavoro a lei. Mi scuso, grazie, mi scuso con gli altri ospiti ma c'è un altro impegno in concomitanza. Buona serata e grazie, un caro saluto in modo particolare al Sottosegretario Centinario. Grazie. E' qui che ricambia, che ricambia di cuore. Grazie a Lino Enrico Stoppani. Abbiamo detto, avete scritto, anche il rito della colazione in qualche modo a cascata, risente, in questo caso, delle tensioni internazionali che portano un'infiammata dei prezzi, delle materie energetiche ma poi sono convinto che anche voi che magari non andate spesso al bar vi siate accorti quantomeno da altri due indicatori che c'è un certo fermento in questo mercato, nel mercato energetico, sia perché vi sono arrivate le prime bollette con i rincari di luce e gas sia perché magari avete anche voi un'auto, può anche essere un'utilitaria, non serve avere dei macchinoni per accorgersi che il pieno di benzina è aumentato molto. Voi immaginatevi se però con l'auto o col camion viaggiate, magari fate i rappresentanti, magari siete pendolari, magari fate gli autotrasportatori. E' il caso e lo saluto di nuovo di Gabriele Saccardi, lui arriva da Voghera, giusto? Giusto. E' un autotrasportatore, libro professionista. Libro professionista. E lei se ne ha accorto di quanto ha aumentato nell'arco di poche settimane il prezzo del gasolio? Certo, certo. Ho preso una sventola di quelle... Belle toste. Sì, diciamo le toste. Prima cosa, non vado più a fare collezione al bar risparmio. A mezzogiorno mangio in cabine e risparmio per mettere il gasolio per fare i viaggi durante la settimana. Siamo arrivati non alle frutte, oltre. l'ammazza caffè. L'ammazza caffè, sì, ha ragione il senatore, ha ragione. No, qui veramente per fare un pieno, per fare un pieno in pochi giorni, pochi giorni, siamo arrivati a 400 euro in più. Pochi giorni. Le tariffe, come avevo già detto l'altra volta, le hanno tenute al minimo. Non c'è stato un adeguamento. Le tariffe, lei si riferisce? Le tariffe nostre chilometriche. Chilometriche. Lavorative. Quelle che un cliente vi deve pagare. Il cliente che ci commissiona il viaggio deve pagare. Allora, un po' le hanno adeguate, ma un pochino, poco, poco, poco. Non basta. Meno rispetto al costo del gasolio. Certo, perché il costo del gasolio in due giorni, in tre giorni, è andato da 1,76, oggi siamo a 2,23, cioè, presto ho fatto il conto. Io ho un serbatoio da 600 litri. Lei ha detto l'aumento è stato di 400 euro a botta, a volta, ma un pieno di gasolio quanto costa? Mediamente un camion sono 600 litri. Facciamo quali nuovi ormai sono 1000 litri. Facciamo cifra tonda. Prima si pagava 1500 euro, adesso sono 2200. 2200 euro. Ogni quanto volte deve fare il pieno lei? In una settimana si fanno due volte. Quindi è la rovina. Che lei deve pagare? non è che te lo regalano. Nel senso non è che può dire vengo a pagare. No, 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 no. Lei sei in giro deve pagare. Paghi, paghi, fai gasolio e si fa il viaggio. Allora, questo ci dà l'idea perché poi i titoli sono una cosa, il vissuto è un'altra. Complimenti, tra l'altro lei potrebbe andare a insegnare economia alla Bocconi perché ci ha spiegato come siano intrecciati tra loro i vari ambiti dell'economia, no? Grazie, grazie. Lei dice io devo risparmiare perché mi aumenta di più la benzina risultato non vado più a mangiare al ristorante quando sono in giro e non vado più a fare colazione al bar. Voi capite, no, per quale motivo non è così peregrina la scelta di mettere tutto insieme come stiamo facendo questa sera in questo dibattito. Posso chiamare colui che in questo momento è collegato credo dalla strada, dall'autostrada che è il presidente di una delle più importanti sigle sindacali che rappresenta gli interessi dei gestori degli impianti di distribuzione. Massimo Sassi eccolo qua buonasera io non sento più la sua voce ma immagino che sia un po' Buonasera mi sentite? Adesso sì adesso la sento mi scuso perché lei è in una situazione davvero disagiata sì al buio ed è in autostrada mi par di capire sono in autostrada sì senta adesso le chiedo il suo punto di vista però le chiedo di sciogliere questo dilemma la regia ci ha fatto vedere un titolo pochi istanti fa il ministro Cingolani non più tardi di 48 ore fa ha avuto un'uscita che io raramente ho sentito dire a un ministro a proposito dei rincari di benzina e diesel dice gli aumenti sono una colossale truffa sarò legato ancora alla prima repubblica quando i ministri erano molto ingessati però ecco un ministro che parla di colossale truffa senza tanti giri di parole mi ha lasciato un po' così secondo lei chi è che ci sta marciando sopra? ma guardi allora innanzitutto se il ministro Cingolani si è permesso di fare una dichiarazione pubblica dicendo che qualcuno ci sta marciando mi sarebbe anche piaciuto capire che uscisse allo scoperto dicendo chi ci sta marciando il prezzo del carburante viene dettato dal prezzo al barile il prezzo al barile come tutti sapete è schizzato a 134 dollari quindi è automatico che aumenta il prezzo la cosa che non condivido è che il senatore Centinaio dice stiamo cercando di capire quale accise togliere perché se togliamo da una parte dobbiamo aggiungere da quell'altra allora vorrei ricordare a tutti che ci sono accise dal 1936 dove queste accise sono già state pagate strapagate e ripagate parliamo in Italia abbiamo 19 accise contro la media superiore di tutti gli altri paesi europei senza contare che se non erro il carburante rientra nei beni di prima necessità e dove in Italia paghiamo il 22% di IVA il fattore peggiore è che noi gestori e tutta la mia categoria non facciamo il prezzo noi quindi se il senatore Centinaio dice che in un giorno si è trovato a passare in un distributore e ha visto aumentare il prezzo di 15 centesimi non è il gestore che aumenta il prezzo ma è la compagnia petrolifera che aumenta il prezzo un'altra cosa molto grave che grava su di noi che noi guadagniamo 3 centesimi e mezzo al litro in questa situazione tra il caro energia tra i consumi che si stanno dimezzando il nostro margine è diventato pari circa un centesimo e mezzo al litro e non non accetto neanche il fatto che si senta dire che la Cina è la maggior produttrice di grano e non grano allora forse lo Stato dovrebbe mettersi in mente che se diminuiamo le tasse ritorniamo a produrre nella nostra nazione senza andare all'estero a produrre per poi rimportare un attimo Presidente Sassi voleva intervenire centinaio non so se sui riferimenti all'agricoltura prima cosa non ho detto che la Cina è la più grossa produttrice di grano prima cosa ho detto che la Cina è quella che ha fatto più speculazione di tutti sul grano cioè ha comprato grano che è una cosa totalmente diversa la seconda cosa nessuno ha attaccato i gestori dei 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 distributori di benzina ma chi a lei ha detto che si è trovato sì certo beh certo ma lo so benissimo che non siete voi che fate i prezzi non sono nato sulla luna non ho 50 anni per niente tra le varie cose io penso che le compagnie petrolifere e quelle energetiche stanno facendo speculazione pura speculazione pura alle spalle dei cittadini poi il nostro compito è quello di abbassare le accise è abbassare le accise certo il mio compito è quello di abbassare le accise certo e sono d'accordo e sono d'accordo con lei il vostro compito non suo ma quello delle compagnie petrolifere è quello di abbassare il prezzo della benzina quando il prezzo al barile va sotto e aumentarlo perfetto ma la speculazione che stanno facendo le compagnie petrolifere è sotto gli occhi di tutti perché non è che il prezzo al barile aumenta nel giro di 6 ore di 6 ore nel prezzo nel giro di 6 ore la benzina che era presente in quella in quella in quella pompa di benzina da quel benzinaio è aumentata di quasi 15 centesimi in 6 ore la benzina era stata messa lì penso il giorno prima quindi il prezzo era quello allora c'è qualcuno che ci sta fregando beh mi pare di capire sassi che siete d'accordo in sostanza al di là dell'equivoco dovuto anche al fatto che il nostro ospite ci sta ascoltando dall'auto e quindi può avere qualche difficoltà in più nel seguire il dibattito il problema è capire come mai in un momento di grande difficoltà non si faccia altro che cercare di lucrare ancora di più invece di dire vabbè intanto ci si guadagna sempre sulla benzina sul carburante almeno adesso evitiamo di arrivare a farlo crescere addirittura c'è qualche previsione che dice che nell'arco di pochi giorni potremmo andare oltre i 2,50 che dice Sassi? Smentisco questa cosa perché oggi per esempio che il prezzo del barile sta scendendo da venerdì tanti impianti stanno già scendendo con il prezzo io per esempio sono già sceso anche stamattina ma cosa dici? Guardi io qui in studio credo che siano persone che hanno avuto in questo modo di fare oggi il pieno di benzina hanno avuto un sussulto 120 euro pagato il pieno di benzina oggi 120 euro lo pagavo meno di 100 euro fino a qualche settimana fa 120 euro per fare il pieno ma oggi sta iniziando sta iniziando a scendere il prezzo non gli ho detto che risparmiava in base a un mese fa 120 euro Presidente Sassi perdoni la mia assoluta ignoranza però io questa domanda gliela faccio perché sono convinto che anche gli amici a casa abbiano lo stesso dubbio lei dice le quotazioni del Brent nel caso specifico delle valutazioni americane a New York stanno calando il barile il prezzo del barile è in calo io vorrei capire cosa c'entra una quotazione di venerdì col fatto che la benzina che le hanno messo nella sua stazione di servizio quella dei suoi iscritti comunque è stata messa immagino ieri o l'altro ieri cioè stiamo parlando quelle sono quotazioni per il mercato a venire immagino la benzina che mettete nella mia auto è probabilmente stata stoccata come minimo qualche settimana se non qualche mese fa come mai questa correlazione ha così stretto giro perché è qui che rischia secondo me di annidarsi il dubbio della strumentalizzazione no dello sfruttamento della circostanza ma lo stoccaggio che fa un deposito io non posso interagire come non può interagire nessun rappresentante di categoria quello che noi possiamo fare è che quando acquistiamo il carburante capisce che io ho riempito venerdì 39 mila litri se oggi diminuisce e diminuisco di mia coscienza capisce che faccio un bagno di sangue nonostante che noi guadagniamo attualmente quando ci va bene due centesimi e mezzo al litro quindi capisce che noi siamo l'ultima filiera dove non possiamo dettare nessun mercato dobbiamo solo adeguarci sì ma infatti le assicuro che nessuno dei nostri ospiti in studio veda in voi un problema il problema anzi voi forse siete tra l'incudine e il martello perché dovete stare molto attenti nel gestire ovviamente i prezzi che praticate alla pompa visto che come dire se siete troppo generosi negli sconti ci rimettete voi ma le faccio una domanda quando ci sono queste oscillazioni l'amico autotrasportatore dice che lui i soldi li deve anticipare e quindi per lui ogni volta un bagno di sangue come funziona la gestione dei pagamenti per le imprese come le vostre per i distributori di benzina anche voi siete molti di voi siete credo costretti in qualche modo a fare gli imprenditori di voi stessi sì facciamo gli imprenditori di noi stessi perché noi il carburante lo paghiamo al momento della consegna perché se si decide di pagare a due giorni dopo ci tolgono ancora una parte del nostro margine quindi noi siamo proprio l'unica categoria che non possiamo permetterci di aumentare niente andiamo solo a smenarci perché per assurdo più aumenta e più noi guadagniamo meno perché vendiamo meno litri il nostro reddito nasce dal pro litro guardi ha fatto bene a sottolineare questo aspetto così anche chi ci segue da casa forse riesce a capire i ruoli che in questa vicenda per certi versi davvero incredibile no che e senza prego e senza comunque dire che certi autotrasportatori si stanno trovando in difficoltà perché chi usa le carte petrolifere dove ha una fiduzione depositata e un plafon giornaliero che prima gli garantiva un minimo di rifornimento adesso si trovano in condizioni addirittura di fare meno carburante perché non riescono neanche a uscire dal plafon nonostante che hanno una fiduzione bancaria e questo è vergognoso e stamattina e stamattina ieri all'ultimo hanno sospeso lo sciopero dei autotrasportatori perché il garante dice che non ci sono stati i 25 giorni di preavviso ma di cosa stiamo parlando una famiglia un autotrasportatore che deve portare a casa un euro deve avvisare il garante 25 giorni prima per poter fermare il suo mezzo per non fare un bagno di sangue siamo alla follia Presidente da studio le vorrebbe fare una domanda il segretario generale di Confartigianato Pavia il dottor Bruni immagino sia solidale su questa situazione assolutamente paradossale che abbiamo scoperto questa sera grazie al nostro ospite prego visto che il presidente ha citato lo sciopero che poi è rientrato di una delle nostre categorie più forti che è la categoria di autotrasporto volevo sapere come mai i benzinai non sono scesi in piazza facendo uno sciopero su questi aumenti visto che loro si trovano come ha detto tra l'incudi nel martello proprio Presidente Sassi Allora gli do subito una risposta e penso che sia molto esaudiente non mi ricordo in che anno è stato introdotto che lo sciopero del settore distribuzione carburanti non può essere articolato per più di 48 ore in quanto se no viene precettato dalle prefetture paradossalmente se noi domani dichiariamo che c'è sciopero giustamente l'utente finale nonché il cittadino si preoccupa di rifornirsi prima per non rimanere a secco quindi non risolviamo il problema in questa fase dovrebbe essere il cittadino di buona coscienza a fermare l'auto noi non abbiamo il mezzo e il potere di creare tra virgolette un danno costruttivo per risolvere il problema perché lei dice l'annuncio dello sciopero spingerebbe la gente ad assaltare gli impianti e far benzina sì la seguo perfettamente l'effetto annuncio poi magari sarebbe bella una serrata tutti insieme però mi rendo conto che effettivamente è vero talvolta l'annuncio immagino che anche per gli autotrasportatori salga immediatamente l'ansia è una serrata di 48 ore la nostra perché il garante il garante ci ha autorizzato a 48 ore e non di più e non di più certo non è che è poco 48 ore senza benzina nel fatto nel fatto che alla fine poi tutti si preoccupano di riempire la macchina però se siamo tutti tutti cittadini italiani tutti compresi e ragioniamo in un modo di non di non muovere neanche la macchina allora si muove e si svegliano ho capito ho capito io l'ho dovuto usare la macchina se ci fossero dei sì ho capito ma se dobbiamo avere un punto fermo come dice il presidente io il camion non lo sposto lui non lo sposta lui non lo sposta tutti fermi tutti fermi l'Italia si ferma nel giro di 48 ore che ho vissuto quando c'erano le talger terne fra un po' si arriverà lì forse no no c'è questo spettro che aleggia no? scusate noi come autotrasportatori abbiamo l'85% della movimentazione italiana su ruota ok? perché è così e se ci fermiamo l'Italia in 48 ore si ferma si ferma vero? che dice presidente Sassi dipendiamo dal trasporto su gomma noi qui in Italia dipendiamo dal trasporto su gomma e loro dipendono dal nostro prezzo in automatico è una filiera aumenta il carburante l'autotrasportatore deve aumentare il viaggio e così via aumentano tutti i prodotti di prima necessità è una catena quindi presumo che riescono a fare subito loro questo sciopero Presidente Sassi voi come categoria visto che l'abbiamo ben capito stasera davvero state tra due fuochi avete delle richieste che avete già fatto al governo cioè in che modo posto che anche voi rischiate di bruciarvi con queste impennate dei prezzi in che modo potreste avere un po' di sollievo? ma il sollievo è quello che si sta sentendo in questi giorni che abbiamo chiesto se c'erano degli accise da poter andare a rivedere o addirittura un momentaneo congelamento dell'IVA ci sono gestori che a oggi non riescono più a ordinare il carburante per mancanza di liquidità questa è una situazione che ci segnalava anche un ascoltatore che ci ha contattato in redazione alcuni impianti che si trovano in difficoltà sono gli impianti immagino quelli più piccoli probabilmente perché anche sono quelli più piccoli perché c'è tante problematiche all'interno del nostro settore che dovremmo andare ad affrontare le carte petrolifere le incassiamo dopo 5 giorni quindi adesso noi anticipiamo mediamente 15-20 mila euro ogni 5 giorni quando un rifornimento prima ci costava 18-19 mila euro adesso ci troviamo a rifornimenti da 25-26 mila euro quindi man mano si sta andando accorciando il gap di quello che è la nostra disponibilità finanziaria la situazione è davvero complicata le chiedo di pazientare poi la lascio così può riprendere il suo viaggio la cosa assurda è che stanno facendo i benzinai i distributori i benzinai stanno facendo praticamente da banca alle compagnie petrolifere e questo è il paradosso dei paradossi in tutto questo stiamo facendo no scusi se mi permetto sì stiamo facendo gli esattori per lo Stato che è ben diverso sì beh forse entrambi i ruoli state vestendo no stiamo vestendo il primo ruolo gli esattori per lo Stato perché lei dice in proporzione sul prezzo noi non siamo più piccoli imprenditori noi possiamo essere classificati esattori per lo Stato vorrei sentire che cosa ne pensa Rosario Trefiletti che è il presidente del Centro Consumatori Italia che siamo riusciti a collegare in collegamento da Roma Presidente buonasera 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 a tutti voi allora non so da quanti minuti lei abbia avuto modo di seguire il dibattito studio ecco immagino che abbia una serie di colpi in canna per ma sì ma innanzitutto dico subito ma quale ma per cortesia ma anziché parlare di scioperi parliamo invece di come risolvere il problema anche perché io per la prima volta in maniera molto complicata e difficile sono totalmente d'accordo col ministro che ha denunciato le speculazioni che per la verità stiamo denunciando da mesi perché il petrolio non è mica cominciato adesso a fare ricadute sui prezzi della benzina e del gasolio adesso si sono ulteriormente aggravati con speculazioni che hanno portato a 2, 3, 2, 4 addirittura in Sicilia a 3, 5, 3, 6 al litro sto parlando di prezzi straordinari e speculativi allora detto ciò bisogna fare delle proposte allora ripeto sono mesi e nelle ultime settimane abbiamo calcato la mano per dire che anche lo Stato il governo bisogna fare delle proposte e so che cominciano a ragionare su questo rispetto a una questione molto semplice che è questa quando aumenta il prezzo industriale dei carburanti guardate che lo Stato in camera molti molti soldini noi abbiamo fatto un calcolo dal primo di gennaio dell'anno scorso alla fine dell'anno e poi con gli schizzi delle ultime settimane lo Stato ha guadagnato 6, 7 centesimi al litro di carburante allora ci sono due questioni fondamentali la prima il ministro convochi le compagnie petrolibere a partire da quella che detiene le azioni che è Leni santa pazienza non faccia solo denunce ma chieda a Leni esplicitamente cosa sta facendo sia chiarendo come mai i prezzi sono andati a quel a quel livello e sia cosa vuole intendere Leni fare come cannieramento dei prezzi questa è la prima cosa che chiediamo al ministro la seconda cosa l'iva automaticamente ha atto schizzare di 6 7 centesimi al litro in più le entrate per i carburanti pari a 2 miliardi e mezzo di euro è chiaro questo e allora si faccia come già si ece nel 2008 nel nostro paese non è un'invenzione del cattivo trepiletti o che altro per la verità anche allora chiedemmo la stessa cosa e quindi era anche un'invenzione nostra bisogna egualizzare il carico fiscale quanto aumenta l'iva automaticamente si deve ridurre l'accisa non automaticamente perché c'è bisogno di un decreto legge so e centinaio lo saprà di sicuro perché a parte del governo che si sta discutendo di questo e bisogna arrivare a questa soluzione 6 centesimi più per l'iva almeno dico almeno oltre la prima questione che dicevo prima dell'eni del calmeramento delle speculazioni eccetera eccetera abbattere l'accisa di un'egual misura per almeno avere la stessa identica tassazione lo Stato non si guadagna i cittadini risparmiano ma lo Stato non si perde neanche perché ritorna a una tassazione equilibrata queste sono le cose da ragionare da mettersi insieme discutere convincere il governo che già mi sembra che abbia tolto questo segnale anziché parlare di scioperi ma per cortesia vogliamo mettere a gambellare a questo paese le famiglie che già stanno facendo accaparramento nei supermercati senza senso per la verità e allora io dico che tutti insieme autotrasportatori gestori in prima battuta e via dicendo tutti quelli della filiera e in più le responsabilità di governo si vada a questa soluzione abbattimento delle speculazioni ruolo di calmieramento dei gestori petroliveri a partire dal Leni che è santa pazienza abbiamo il 30% delle azioni del Leni se è chiaro questo e la terza cosa è riequilibrare la tassazione per fare in modo che le entrate dello Stato non vadano ad incrementare la tassazione per il governo per lo Stato e non per i cittadini queste sono le cose da fare le abbiamo formalizzate allora sì le chiedo di parzientare è stato molto chiaro tra poco sentiamo dal senatore Centinaio che mi pare di capire sia d'accordo su tutta la linea concretamente che cosa si riesce a portare a casa di questa lista di proposte fatta non solo da lui ma in questo contesto da lui da Rosario Trefiletti leader dei consumatori c'è una fascia pubblicitaria che vorrei agevolare così poi possiamo anche parlare delle imprese perché noi oggi abbiamo raccontato di alcune categorie ma poi ci sono le aziende che devono fare i conti con gli aumenti di queste bollette chiedo velocemente alla regia oggi molte persone stanno interagendo con noi anche sui social so che è arrivata in redazione la foto di un pieno di benzina il senatore Centinaio diceva stasera ho speso 120 euro per fare il pieno per venire qui in trasmissione mi fa sentire quasi in colpa senatore vi faccio vedere questo ce lo manda Riccardo che è un nostro ascoltatore lui dice io ho una auto di media cilindrata ieri temevo di avere un mancamento di solito non spendevo più di 65 euro per un pieno di benzina 100 euro a fronte di 44 litri erogati grazie Riccardo non ci ha scritto da dove ci segue però la foto è emblematica pubblicità e poi a orizzonti continuiamo a parlare di questa ondata di rincari che viene il sospetto non c'entrano le tensioni internazionali che sicuramente sono drammatiche ma c'è chi ci marcia e allora vediamo di capire se ci sono gli strumenti per difendersi tra un attimo eccoci qua di nuovo in diretta orizzonti su Milano Pavia TV stiamo parlando di questi rincari legati alla bolletta energetica abbiamo parlato molto di carburante tra un attimo voltiamo pagina perché dobbiamo raccontare anche il disagio di chi fa impresa e ha bisogno dell'elettricità per poter azionare i macchinari però come avete sentito se ci seguivate anche prima della pubblicità Rosario Trefiletti leader dei consumatori in collegamento diceva qui il governo deve sbaragliare il tavolo e calare delle proposte concrete che vanno naturalmente sempre nell'ordine di riprendere l'ENI e le varie compagnie petrolifere dicendo signori non si marcia sui prezzi in un momento in cui il paese rischia di morire di fame seconda cosa il dossier il cahier de doleance sulle accise senatore Centinaio dice Trefiletti che sono argomenti effettivamente all'ordine del giorno a Palazzo Chigi sì assolutamente sì è quello su cui stanno parlando il ministero dell'economia il ministero dei trasporti il ministero sviluppo economico il presidente del consiglio cioè è il lavoro che si sta facendo per evitare di sbagliare e sicuramente per dare anche un aiuto economico concreto agli italiani perché poi quando esci con dei provvedimenti se non le hai tarati in modo giusto rischi veramente di fare dei grandi annunci e poi di concreto non arriva non arriva niente io capisco il rappresentante dei distributori che ci dice noi facciamo gli esattori è altrettanto vero che in questo momento il discorso delle accise è quello che è stato messo sul tavolo abbiamo messo sul tavolo noi come Lega e per fortuna ci stanno venendo dietro in tanti l'ha messo sul tavolo Trefiletti da tanto tempo non è che Trefiletti non è che lo sta dicendo oggi la questione delle accise con Trefiletti ci siamo confrontati ci siamo confrontati in tante occasioni quindi sono argomenti che sono sul tavolo da tempo è normale che poi li si affronta nel momento di crisi poi è vero che determinate accise riguardano la guerra di Etiopia ma è altrettanto vero che lo Stato le mette a bilancio e purtroppo lo Stato è molto rigido è molto rigido e allora non è che la guerra di Etiopia è finita e quindi basta per lo Stato c'è la voce guerra di Etiopia e se tu nel momento in cui nella voce entrate per la guerra di Etiopia c'è scritto più un miliardo di euro non trovi un miliardo di euro che per ridurlo lo Stato non ti dice toglile così lo Stato ti dice dove lo trovi un miliardo di euro per togliere la voce terra di Etiopia guerra di Etiopia la trovo qui noi diciamo si trova sugli extra profitti di determinate delle compagnie perché? perché in questo momento stanno facendo extra profitto secondo noi stanno facendo extra profitto loro e le compagnie energetiche sono le due che in questo momento ci stanno guadagnando più di tutti perché? perché fanno investimenti perché fanno trading perché fanno speculazione perché fanno lavorano con i fondi di investimento e nel frattempo il bilancio del nostro paese va a picco questo è e deve essere e quindi io penso che il ministro Cingolani non abbia detto una stupidaggine il ministro Cingolani ha fatto un'analisi ha detto questa è la situazione del nostro paese poi mancava a mio parere mancava la parte dopo questa è la situazione c'è qualcuno che ci specula dobbiamo andare a colpire gli speculatori ecco forse mancava al pezzo dopo beh questo è un tema che ci riconduce anche a un messaggio che è arrivato tra quanti stanno seguendo la trasmissione questa sera anche sui social in particolare potete commentare in tempo reale su facebook Gian Enrico un nostro ascoltatore dice il barile anche anni fa è schizzato a 140 euro ma il carburante non è mai arrivato ai valori odierni il nostro ascoltatore poi elenca una serie di compagnie che noi salutiamo con tanto affetto stanno facendo speculazione e lo Stato dovrebbe controllare questa enorme plusvalenza qualche controllo in effetti forse ci starebbe bene è tra le competenze immagino del Ministero dell'Economia ma assolutamente sì lo Stato è sovrano nella tassazione e di conseguenza si va a tassare quello che ritieni che siano i settori o le aziende o i cittadini italiani che comunque lo Stato reputa che sia giusto tassare come sempre stato non si sta facendo una cosa strana non è che stiamo facendo una cosa particolare stiamo facendo una cosa che è nella normalità come gli extra profitti come quando si dice che l'Europa dovrebbe tassare gli extra profitti di tutte le vendite sul web perché ci sono aziende sul web che stanno approfittando e stanno vendendo soprattutto nel periodo di pandemia e poi fondamentalmente non lasciano niente ai paesi Presidente Sassi e poi la congedo così la libero dalla piazzola dell'autostrada dove è fermo ormai da ore mi aiuti a capire una cosa poi se vuole chiosa commentando gli ultimi interventi che ha sentito mi ricordavano alcuni ospiti in studio che in effetti in questi giorni c'è stato un altro record storico un sorpasso storico il prezzo del diesel che è diventato pari se non superiore alla benzina anche questa è una cosa abbastanza inusuale no? Ma per quello che siamo a conoscenza noi perché l'Italia compra più del 35% di gasolio dalla Russia e in questa fase di guerra praticamente schizzato alle stelle il prezzo del gasolio forse è qui che veramente lo Stato dovrebbe intervenire per capire dove sono le speculazioni Grazie Presidente Sassi la ringrazio davvero di cuore perché ha seguito la trasmissione in una situazione davvero disagiata le auguro un buon rientro e spero di poterla avere presto magari in una situazione un po' più comoda per analizzare l'andamento di questa crisi energetica va bene? Grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti Grazie Grazie al Presidente della FIAB Massimo Massimo Sala un attimo perché come sempre tu hai il compito di fare da trade union e di elemento di sintesi c'è un'altra voce che io vorrei farti ascoltare prima di affidarti la parola che è quella di chi oggi rappresenta le imprese facendo una sottolineatura importante Confartigianato rappresenta e lo abbiamo ricordato gli interessi degli autotrasportatori però c'è un'altra categoria che altre due forse categorie che in questo momento anche loro devono tirare la cinghia perché col carburante vivono sono i tassisti e gli NCC i noleggiatori con conducente anche per loro la situazione è difficile molto difficile noi rappresentiamo un consorzio soprattutto a Pavia sono 15 tassisti Pavia ricordiamo che ha 30 tassisti ci eravamo visti verso fine di gennaio per rivedere le tariffe che erano ferme dal 2016 poi c'è stato il covid non si è lavorato i tassisti per quasi due anni hanno tirato la cinghia adesso siamo andati in comune in commissione taxi e anche hanno ovviamente accettato non tutto l'aumento ma una parte dell'aumento sulla corsa soprattutto e hanno rivisto anche altre voci del tariffario e una volta che il comune ci ha approvato le nostre istanze è arrivato questa botta sul costo della benzina del carburante qualcuno dice ma i tassisti usano le macchine ibride la macchina ibrida funziona comunque perché non è una macchina elettrica funziona con la benzina purtroppo anche la categoria dei tassisti sta soffrendo sta soffrendo molto non si sa adesso quali saranno le iniziative che porteranno avanti noi ci siamo mossi ci siamo mossi anche come confrattigianato nazionale abbiamo fatto delle richieste anche per i tassisti quello che volevo dire anche al dottor Trifiletti è stata una provocazione quella di dire anche ai benzinai fate lo sciopero è ovvio che una categoria che un'associazione che difende le categorie imprenditoriali soprattutto dei piccoli non è mai contenta quando sentono i piccoli che vogliono fare sciopero perché ci rimettono sempre un imprenditore se non lavora non porta a casa i soldi quindi sono tutte provocazioni quelli noi come confrattigianato abbiamo bloccato lo sciopero e siamo stati fra le grosse associazioni di categoria che hanno voluto fermare lo sciopero Trifiletti ha fatto un esame molto è una sintesi molto giusta sulla questione delle accise e sulla questione di convocare un tavolo dove devono essere convocati i produttori di in questo caso le grosse compagnie petrolifere ma io chiederei anche di convocare le grosse compagnie che detengono la produzione di energia elettrica questo potrebbe essere e sicuramente sarà un solco e la strada da seguire giustamente noi con i consumatori anche i piccoli artigiani soffrono tanto quanto i consumatori presumo che siamo come ricordiamo sempre l'Italia si basa ed è la forza dell'Italia sono i piccoli anzi i microimprenditori quindi noi siamo a livelli del consumatore finale diciamolo e siamo sempre vicino anche alle esigenze dei consumatori però in questo caso la voglia di fare sciopero non è stata vista dalla nostra confederazione come la strada giusta Presidente lei citava gli artigiani io vorrei dedicare proprio a questo punto un focus di qualche minuto a questa categoria perché davvero è l'ossatura del sistema produttivo italiano lo è in un territorio diciamo così di confine come questo nel sud della Lombardia tra Milano e Pavia sono tantissime le aziende ricordiamoci che l'economia pavese nonostante Pavia sia ricordata per la produzione di riso la produzione di vino è alimentare e invece è una produzione manifatturiera il PIL della nostra provincia è la manifattura è la manifattura artigiana ecco per gli artigiani è l'ennesima categoria che si trova sotto scacco perché ovviamente quando tu hai un ciclo cicli produttivi magari che devi continuare ad alimentare hai anche gli ordinativi perché paradossalmente questa crisi energetica arriva in un momento in cui mancano le materie prima ricordiamoci che si è stata dalla seconda metà dell'anno scorso fino ad oggi diciamo che stiamo soffrendo ancora per la mancanza di reperire materie prime e quindi questo è stato un problema sembrava che poi il governo ci avesse dato una mano io parlo soprattutto dell'edilizia con i bonus edilizia il bonus facciate il 110 c'è stato uno slancio in avanti se ricordiamo ricordiamo che non si trovava più un ponteggio in provincia di Pavia ormai erano erano stati tutti utilizzati per rifare le facciate se noi giriamo per la provincia e soprattutto una città come Pavia c'è un cantiere dietro l'altro nei condomini adesso invece siamo ancora sul chi vive perché l'artigiano dice sì vado avanti faccio e poi ricordiamoci una cosa i condomini hanno ricevuto la battosta del gas ah sì il riscaldamento il riscaldamento è andato alle stelle quindi io non so qui vi posso dire durante la settimana io vivo a Roma vi posso dire che Roma la principale sigla degli amministratori di condominio mi pare sia la Naci ha chiesto a tutti i condomini di abbassare fino a 3 gradi il livello di riscaldamento per cercare di contenere l'impatto delle nuove bollette energetiche che si preannunciano molto molto pesanti abbiamo parlato delle difficoltà di chi produce e non può fermare i macchinari è evidente che non puoi per risparmiare la corrente dire proprio non produco più che fai con gli ordinativi e allora il nostro Stefano Galimberti è stato a Vittuone qui c'è un'azienda un'azienda tra l'altro di eccellenza che si rivolge anche a un target medio alto che questo problema se l'è posto anche perché loro le lavorazioni non le possono fermare praticamente mai sentite questa testimonianza ma qui come puoi vedere ti faccio vedere appunto due bollette in questo caso parliamo di di metano che è diciamo il costo energivoro più eclatante ho preso due consumi mensili che sono molto simili ok noi a marzo abbiamo speso 105 mila euro per tutto il metano nella bolletta di ottobre mi sono ritrovato 352 mila euro un aumento come vedi qua scritto a fianco del 235% questi numeri nero su bianco degli aumenti delle bollette per la ceramica Bardelli una delle aziende più note del Magentino aumenti che percentualmente sono superiori a quelli dei privati o ad attività economiche meno energivore e che servono per capire come anche per le imprese del territorio finita la crisi di pandemica se ne apre un'altra altrettanto preoccupante parliamo di aumenti del 200-250% a parità di consumo e questo per una ceramica è devastante considera che il costo di produzione fatto 100 il costo di un prodotto di un metro quadro di piastrelle normalmente il costo dell'energia per l'energente endometano e energia elettrica si aggira intorno al 25-30% del costo di produzione con le cifre attuali abbiamo ampiamente superato il 50% un tale aumento percentuale non è ribaltabile semplicemente sul mercato noi le prime misure che abbiamo preso è ripensare un po' tutto il riassetto produttivo le fasce orarie prediligendo ovviamente quelle notturne rispetto a quelle diurne bisogna intervenire in qualche modo perché è fuori controllo la situazione e un imprenditore che subisce senza poter fare nulla è veramente frustrante come cosa si questa è la situazione non puoi fermare le produzioni ma non puoi neanche rivalerti sul cliente sul consumatore perché evidentemente il cliente anche lui ha il suo bilancio da far quadrare e allora un'impresa artigiana com'è che esce da questa da questa situazione cioè cosa cosa potete fare concretamente oggi voi allora noi come Confartigianato sono anni che abbiamo un consorzio dove sono iscritte più di 10.000 aziende e poi questo consorzio serve anche il domestico cioè le famiglie questo è un consorzio dove noi direttamente acquistiamo l'energia dai produttori di energia abbiamo notato che hanno con noi durante il periodo del covid soprattutto le aziende hanno risparmiato molto è ovvio che adesso siccome l'energia viene acquistata comunque anche dai produttori di energia la fonte è la medesima siamo riusciti a avere dei prezzi buoni ma non buonissimi le aziende ci seguono perché diamo un'assistenza e abbiamo praticamente dei nostri funzionari che a livello anche regionale e Lombardia soprattutto Piemonte Veneto soprattutto al nord abbiamo dei funzionari che seguono direttamente l'azienda per qualsiasi esigenza in questo modo con il nostro consorzio che si chiama CEMPI abbiamo e stiamo cercando di tenere bassa l'impatto e a tanti avevamo consigliato anche l'installazione di pannelli solari con i pannelli solari siamo riusciti a fermare questa emorragia altre di ed uscita abbiamo avuto l'aiuto da parte del governo con l'ultima finanziaria che prima era rivolta soprattutto a questi risparmi energetici avvenivano grazie a queste leggi dello Stato per le aziende molto energivore adesso sono stati anche applicati aziende meno energivore però per uno piccolo veramente è difficile avere delle risposte immediate quello che ci preoccupa è che già hanno chiamato tantissime aziende quando hanno sentito soprattutto il discorso di Draghi della settimana scorsa quando e qui c'è il senatore Centinaio magari volevo anche da lui non dico un chiarimento perché è impossibile quando Draghi ha detto ormai abituiamoci siamo in un'economia di guerra capire un po' il significato di questa frase perché è rimbalzata anche tra i nostri imprenditori e subito uno si spaventa si sono spaventato ha detto si sono spaventato anche io ecco e questo credo che dia l'idea sia la risposta migliore in questo contesto permettetemi di salutare un ospite che si è aggiunto adesso anche lui è reduce da una riunione politica e ci ha potuto raggiungere solo in questi minuti Matteo Perego di Cremnago deputato di Forza Italia è collegato da Milano da Milano sì buonasera a tutti grazie so che lei tra l'altro è reduce da una trasferta in Ucraina proprio negli ultimi giorni e quindi ha vissuto anche l'esperienza proprio della guerra che noi qui in Occidente sentiamo raccontata lei era in una missione istituzionale per cui tra poco le chiediamo anche di raccontarci le esperienze che si è portato a casa da quella trasferta intanto volevo chiedere a Massimo Sala tu hai sentito tante storie c'è il vissuto delle famiglie alle prese con i rincari i ristoratori ci sono gli albergatori ci sono gli autotrasportatori ci sono gli imprenditori e poi anche i gestori degli impianti di carburante sai cos'è che mentre li sentivo parlare mi viene in mente che bene o male ognuno nel proprio ruolo noi si è sempre sotto scacco e sotto ricatto alla fine di chi per un motivo o per l'altro approfitta della situazione per speculare infatti il concetto importante secondo me che è quello che ha sollevato il senatore Centineo è quello degli extra profitti è una situazione di difficoltà dovuta alle congiunture che conosciamo la ridistribuzione delle difficoltà attraverso il coraggio di tassare gli extra profitti e lì non credo che sia una cosa semplicissima anche perché le lobby interessate sono lobby importanti credo che sia la chiave di volta perché se dobbiamo pagare paghiamo tutti in ugual misura le difficoltà ci sono lo abbiamo visto quello che a volte magari si ascolta come difficoltà conseguente ad uno stato che sembra tanto distante alla fine poi va affrontato anche in quelle che sono le particolarità specifiche dove ci sono delle persone che ne approfittano alla fine la speculazione è anche che avviene in condizioni di guerra come sono quelle che stiamo attraversando adesso ma anche durante il periodo della pandemia c'è sempre gente che persone che durante queste difficoltà cercano in qualche modo di approfittarsi di quella che è la situazione i furbi i furbi i furbi o cosiddetti tali sai cosa mi hai fatto venire in mente una dichiarazione non so se è ancora collegato con noi il professor Spedicato perché so che anche lui poi doveva lasciarci io ho letto professore una sua dichiarazione a un quotidiano di qualche giorno fa vado a memoria per cui non si arrabbi se ho frainteso il senso delle sue parole in qualche modo il senso la situazione di ricatto che io prima evocavo è ovvio che alimenta una certa rabbia una certa tensione la voglia di reagire lei in questa intervista diceva attenzione perché in questa situazione economica così complicata sono coloro che hanno un reddito fisso i lavoratori dipendenti immagino lei si riferisse quelli che stanno peggio e c'è il rischio che la tensione sociale cresca fortemente detto da un sociologo credo che siano riflessioni che vanno prese con le pinze ma approfondite cosa intendeva dire in quell'intervista se non ho frainteso il senso delle sue parole professore no no lei ha inteso benissimo per rispondere però alla sua domanda mi rilugo al signor Saccardi l'autotrasportatore per spiegare perché sta per incrinarsi un meccanismo che noi chiamiamo di compensazione ed è un meccanismo di tipo simbolico ma serve molto ad affrontare le situazioni di crisi vede signor Saccardi io ho ascoltato con molto interesse quello che lei ha detto a proposito del saltare il caffè o l'ammazzacaffè e il pranzo per risparmiare sui 400 euro di aumento che diciamo lei ha registrato mi permette di dire doveva essere dei pranzi importanti quelli che lei faceva nel senso che non possono essere fino a 400 euro ma sa perché glielo dico perché lei ha messo in atto un meccanismo di tipo compensatorio è lo stesso meccanismo che le persone usano quando fanno la fila al supermercato per rifornirsi di zucchero fin qui ci sta farina ma anche di olio di semi di girasole o di mais perché il meccanismo compensatorio è importante perché serve a dirci che il nostro stile di vita non verrà significativamente intaccato dagli aumenti quando ci sono state altre fiammate speculative o comunque provocate dal rincaro dei carburanti a livello internazionale c'è stata sì all'inizio una piccola flessione dei consumi in parte anche compensata da chi ha fatto la fila alle pompe dei distributori per fare il pieno anticipatorio e anche questo meccanismo è stato descritto in trasmissione ma poi i consumi sono tornati allo stesso livello di prima un po' perché l'Italia vive si regge sul trasporto delle persone delle merci su gomma ma perché anche il pieno è un elemento di rassicurazione della stabilità della nostra vita quotidiana qui si apre però una contraddizione e rispondo alla domanda del nostro direttore quanto durerà questo meccanismo di compensazione simbolica per cui io tornerò a prendere i caffè al bar succederà glielo posso assicurare per cui io non rinuncerò alla gita domenicale o nel fine settimana fuori porta al mare nel mio caso io vivo nel Salento alle montagne o ai meravigliosi laghi della Lombardia nel vostro caso durerà poco noi torneremo a fare le nostre gite domenicali però qualcosa si sta incrinando in questo meccanismo e non è soltanto un evento legato alla guerra né tantomeno legato al covid vede senatore Centinaio io la ringrazio per la grande chiarezza con cui lei ha parlato dei componenti strutturali della crisi italiana contemporanea ma non ha la data sul calendario che inizi con il covid nel 2020 o con la guerra nel marzo del 2022 i salari italiani hanno perso più del 5% negli ultimi sette anni parliamo di valore reale quindi calcolato anche sull'inflazione c'è stato un aumento nominale che è stato mangiato eroso dall'aumento dei prezzi e questo ha colpito in particolare quegli strati a cui io facevo riferimento nel mio articolo sul quotidiano di Lecce che sono a reddito fisso colpendo in modo particolare la classe media ma in modo drammatico quella fascia di salariati l'operaio con un contratto a tempo indeterminato l'impiegato d'ordine come una volta si chiamava che però non aveva problemi di prospettiva di vita adesso queste categorie sentono che il terreno sta lentamente ma inesorabilmente franando sotto i piedi la funzione simbolica del consumo sta subendo una trazione fortissima da questo elemento incrociato dell'aumento dei costi gli alimentari la benzina e la diminuzione in termini reali del valore degli stipendi percepiti questo è un fatto nuovo perché in qualche maniera meccanismi compensativi di tipo economico c'erano sia pure con i ritardi che conosciamo i contratti collettivi di lavoro venivano rinnovati ma adesso questi meccanismi non reggono più le tensioni sul fronte della spesa della famiglia l'indicatore più chiaro sono quelle bollette che sono state fatte vedere certo si riferivano a un'industria manifatturiera ma le posso assicurare che anche le bollette nelle famiglie stanno ponendo problemi molto seri si potranno abbassare i gradi ma provate a dirlo a una madre che ha un bambino piccolo che si è raffreddato probabilmente non accetterà di abbassare di tre gradi la temperatura nella sua casa e comincerà ad avvertire con fastidio crescente questa limitazione al suo ruolo di madre ecco i simboli nella nostra vita sono importanti ci rassicurano danno stabilità a quello che succede intorno a noi quindi mettere ordine nella vita quotidiana lavorando sui simboli bere la tazzina di caffè al bar e un consumo di tipo simbolico sposta il senso dell'ordine al mondo che ci circonda in qualche modo ristabilisce la leggibilità la comprensibilità di questo mondo se mettiamo in crisi questo meccanismo allora la vita quotidiana diventa un caos non più decifrabile questa è la vera radice di una possibile crescita delle tensioni sociali in Italia guardi lei ci ha dato uno spaccato che offre diversi spunti di riflessione mi auguro di averla ospite in altre occasioni perché credo che siano tutti i temi che ora alleggeranno nel nostro studio ma vorrei con la sua disponibilità provare a leggerli ancora più in profondità perché credo che sia necessario riuscire a leggere intellegire intellagire o come diavolo si dice l'italiano ahimè non mi soccorre in questa circostanza una fase davvero molto molto delicata del nostro paese la saluto con un messaggio che è arrivato da un ascoltatore che tra l'altro ci segue via social dal Lazio a proposito delle bollette in famiglia lui dice a proposito di bollette parlo della luce pagavo mediamente 120 euro a bolletta lui vive poco in casa l'ultima bolletta è salita a 350 euro e lui scherzosamente dice devo accendere un mutuo per riuscire a pagarla ecco come vede il suo spunto di riflessione è stato subito raccolto da chi sta seguendo questa trasmissione la ringrazio per essere stato con noi Luigi Spedicato sociologo dell'università del Salento in collegamento da Lecce buonanotte e buon lavoro a lei buonanotte grazie anche per avermi invitato non l'ho fatto prima me ne scuso con lei ma conti se lo riterrà opportuno sulla mia presenza anche in prossime trasmissioni eh guardi mo è entrato nell'agenda per cui se la vedrà brutta grazie allora pubblicità e poi parleremo anche di agricoltura perché alcuni ascoltatori ci dicono beh ma gli agricoltori dove li lasciate perché anche loro devono fare i conti col caro gasolio e poi torneremo a parlare di ristorazione spero che almeno dall'ultimo ospite che sentiremo tra un attimo possa esserci anche qualche motivo di ottimismo pubblicità e poi di nuovo insieme grazie eccoci qua orizzonti ultima parte della nostra trasmissione prima di parlare di agricoltura volevo coinvolgere l'onorevole Perego che è collegato da Milano lui fa parte della commissione difesa dei Montecitori è un deputato di Forza Italia dicevamo che è reduce da questa trasferta in Ucraina le posso chiedere intanto non è il contesto adatto ma siccome le crisi economiche che stiamo raccontando purtroppo partono anche da quella drammatica situazione che si sta vivendo in quel paese dell'est Europa le posso chiedere che esperienza si porta a casa da questo suo viaggio istituzionale? la guerra nel cuore dell'Europa è qualcosa che non avrei mai pensato di vivere noi siamo stati con un gruppo di 20 volontari a portare aiuti umanitari in un paese una piccola città al sud dell'Ucraina vicino al confine ungherese e slovacco che tra l'altro il giorno dopo che siamo stati noi è stata bombardata dall'aviazione russa per darvi la contezza della situazione sul campo ho incontrato due deputati del Parlamento Ucraino che mi hanno fatto vedere rappresentato come il popolo ucraino voglia difendersi non voglia minimamente pensare di vivere sotto la sfera di influenza russa e ci chiedono ovviamente maggiore supporto dal punto di vista anche militare guardi l'esperienza personale che mi sono portato a casa è come a 1500 km di distanza due ore di volo si stia consumando una catastrofe umanitaria ci sono 2,5 milioni di profughi una guerra che sembrava essere partita a una chiamiamola bassa intensità si è trasformata in un conflitto su larga scala dove vengono bombardati gli edifici civili gli ospedali senza risparmiare la vita di nessuno è una tragedia che forse di cui forse abbiamo sottovalutato come dire in questi anni le intenzioni della Russia di Putin di applicare una politica comunque di espansione nel Mediterraneo con la partecipazione alla guerra in Siria alla guerra in Libia e purtroppo ci siamo svegliati in questi giorni in un altro mondo perché è difficile immaginare un'Europa e dei rapporti con la Russia così come avevamo prima del conflitto per almeno i prossimi 20 anni è cambiato tutto dal punto di vista geopolitico oggi c'è un'emergenza umanitaria a cui credo noi siamo chiamati a dare risposta perché comunque si sta verificando nel cuore del nostro continente e quindi è difficile voltarsi dall'altra parte magari come abbiamo fatto in altre circostanze che dobbiamo spingere in tutti i modi quelle misure quelle sanzionatorie che non permettano il finanziamento della guerra da parte della Russia in questo momento non sembra che ci sia una soluzione diplomatica come dire da raggiungere a tavolino in maniera facile si pare che i colloqui o quantomeno i tentativi di colloquio tra le parti stiano procedendo tra mille difficoltà poi la speranza naturalmente che alla fine si possa trovare la via del dialogo onorevole ovviamente paragonato al dramma di chi ha la guerra in casa i problemi di un paese come l'Italia che sta subendo le ripercussioni economiche di queste tensioni internazionali sono poca cosa però se lei ha avuto modo di sentire il dibattito qui in studio avrà percepito il disagio che un po' tutte le categorie rappresentate dagli autotrasportatori agli operatori del commercio gli industriali percepiscono in questo momento il caro carburante se vuole è il più emblematico perché fa notizia ne posso dare un elemento io ho barcato il confine italo-sloveno il gasolio costava anziché 2,29 1,47 euro al litro e questo è stato la prima amara sorpresa e credo che questo rappresenti anche lo diceva prima il sottosegretario Centinaio lo sforzo che il governo sta mettendo in essere che dovrà fare nelle prossime settimane sia per limitare le accise quanto più possibile e anche per avere una politica di prezzo non dico imposta ma sicuramente nelle quali le grandi compagnie non possono pensare di non adeguare i prezzi a uno standard europeo noi paghiamo il carburante più di tutti gli altri paesi d'Europa e questo sta piegando un'economia che aveva visto un timido rilancio dopo la pandemia ma che ovviamente lo dico da manager di azienda poi imprenditore che purtroppo voglio dire con l'energia l'energia è la base di tutto quindi se la paghiamo così tanto metteremo in ginocchio anche la nostra economia e stiamo già chiedendo dei sacrifici enormi banalmente ai cittadini che nelle proprie case per pagare il riscaldamento pagano tre volte quello che pagavano prima e mi lasci dire non finisce qui perché troppo le ricadute di questa guerra non sono come dire soltanto nella dimensione della catastrofe umanitaria ci saranno anche delle ripercussioni di natura economica evidentemente visto che banalmente l'Italia esportava verso la Russia 10 miliardi di merci all'anno e solo in Russia ci sono 500 imprese italiane certo sì alla fine anche la politica delle sanzioni rischia di danneggiarci ulteriormente lei ha fatto giustamente un riferimento al fatto che nella vita non fa il politico lei fa l'imprenditore ad aprile titolo del sole 24 ore di qualche ora fa si prevede un ulteriore aumento delle tariffe in modo particolare se non ricordo male eccolo qua dell'elettricità addirittura un balzo del 20% un po' più contenuto quello del gas al 2% nelle fasi precedenti del dibattito è emerso come sì la politica qui rappresentata dal sottosegretario Centinaio è al lavoro ci sono dei tavoli in cui si sta cercando concretamente di dare delle risposte ma l'esigenza del cittadino l'esigenza delle imprese sarebbe che dopo gli annunci in tasca ci fossero subito i soldi ecco in realtà c'è ancora un po' questo gap questo distacco tra la fase politica decisionale e la fase in cui gli impegni trovano concretezza non è proprio possibile neanche in una situazione di assoluta emergenza riuscire ad accelerare questi tempi? il problema dell'energia intanto coinvolge la politica da tempo il centro-destra ci aveva provato a mettere in atto delle politiche energetiche che oggi avrebbero permesso di non dipendere così tanto dal gas russo quindi bisogna anche fare tesoro e ammenda dei propri errori non so se vi ricordate il dibattito sulla TAP che ha caratterizzato la politica italiana negli anni precedenti quindi purtroppo questa è una situazione che viene da lontano questo è un paese che più di tutti dipende da un altro paese delle proprie forniture energetiche per cui è difficile pensare che in 24 ore si possa risolvere un problema come dire così strutturale come quello che ci caratterizza il governo credo che stia intervenendo nei tempi certamente in questo momento bisogna dare dei supporti dei sussidi alle aziende perché è impensabile che i costi di produzione sentivo prima anche l'azienda che fa ceramiche impattino soltanto quelli di energia al 50% sulla produzione significa paralizzare il tessuto economico certamente servono delle misure sciocche impediate se vi ricordate quando abbiamo fatto lo scostamento di bilancio per la pandemia significa che se vuole la politica può anche dare un'iniezione di capitale di finanza impediata nel sistema economico grazie onorevole se può stare ancora con noi se il tempo ce lo consente mi farà piacere poi tornare anche da lei io volevo chiamare in causa per introdurre l'ultimo capitolo quello dedicato all'agricoltura più strettamente anche Marco Viglini lui è un ristoratore collegato dall'inizio della trasmissione lo ringrazio per la pazienza con cui ci ha seguito sin qui collegato da Stradella dove è titolare di un ristorante Villanai giusto che è un un ristorante stellato perché da questo punto di vista lei rappresenta l'eccellenza nella ristorazione in questo territorio ha sentito lo scenario che abbiamo rappresentato questa sera dal suo punto di vista anche nel suo ristorante percepite questa situazione di tensione di impoverimento di preoccupazione che le varie categorie ci hanno raccontato stasera se devo essere sincero è ancora troppo presto per dire che si sente o si percepisce questa situazione anche perché in un ristorante la gente va per trascorre qualche ora parlando ridendo scherzando insomma è un momento di libertà quindi non penso che venga al ristorante per parlare della Russia dall'Ucraina dal Covid certo è che il potere mi dà sempre più l'idea che sia la stampella dell'ignoranza basta guardare il telegiornale uno si rende conto di quello che sta succedendo e si capisce questo è chiaro che come ha detto anche un telespettatore poco tempo fa pochi minuti fa non si capisce qual è il motivo per cui durante la guerra in Libia il barile costava 180 dollari e la benzina è arrivata a 1,75 euro sembrava già dei prezzi esagerati adesso siamo arrivati a 150 quindi con un prezzo inferiore e la benzina costa 2,24 quindi ci sono tante cose che non funzionano per i ristoratori il problema è che non si ripeta ancora una volta la storia del Covid ci hanno fatto fare diverse spese le lastre di plexiglass per dividerle persone prima ancora di poterle attuare sono state tolte quindi la gente come a me abbiamo speso dei soldi per poter riaprire i locali in tranquillità e tante altre cose anche il Green Pass faccio un esempio banalissimo il Green Pass è stato messo un Green Pass dove la gente senza Green Pass è chiaro non entra in ristorante perfetto quando un ristoratore si trova come nel mio caso di avere abbiamo dovuto chiudere perché un ragazzo ha avuto il Covid e cosa è successo? che noi chiudiamo ma tutti questi ragazzi erano asintomatici e quindi non avevano nessun tipo di non aveva niente ma io voglio dire questa persona poteva essere tranquillamente allontanata le regole dovrebbero essere un po' più chiare e permettere alle attività di proseguire perché tanto chi viene al ristorante non l'ho deciso io è stato deciso che viene solo chi ha il Green Pass quindi ci sono delle limitazioni alle limitazioni quindi per me è troppo presto in questo momento qua parlare di quello che sta succedendo e quali saranno le problematiche sicuramente ci sono le problematiche mi perdoni lei nella sua filiera dei fornitori per esempio ha avuto già degli scostamenti di prezzo o la percezione che comunque chi mi fornisce le materie prime stia attraversando una fase di difficoltà al momento è minima al momento è minima però si è già si è già vista questa piccola differenza il problema è che non sarà minima fra 15 giorni secondo me tende ad aumentare nell'arco del tempo quindi è per quello che dico che le problematiche adesso non so non so se sia giusto andare ad analizzare in questo momento è troppo poco perché basti pensare che 15 giorni fa 20 giorni fa la benzina il gasolio costava 1,67 per dire adesso 2,25 quindi in 15 giorni non si anch'io anche perché la gente spera sempre che questa guerra finisca e prima o poi si ritorni alla normalità la realtà è che fra 15 giorni avremo sicuramente più il polso della situazione in mano e si potrà vedere quali saranno le conseguenze al momento non si nota ancora e ripeto uno va al ristorante e come diceva anche il professore prima la tendenza è quella di con tutte le problematiche che ci sono è di prendersi queste pause per poter essere con la testa vuota perché è chiaro che se al ristorante si viene per parlare di guerra allora qui finisce tutto assolutamente c'è bisogno anche un po' di leggerezza come ricordava proprio il sociologo prima lei dice aspettiamo forse questione di settimane io vorrei con il senatore Centinaio che è sottosegretario dell'agricoltura vedere alcuni titoli noi oggi abbiamo parlato dei disagi per chi guida l'auto e per gli autotrasportatori però in realtà il problema del caro gasolio riguarda anche altre categorie vi faccio vedere beh questa è la stampa che ci dice come bar e ristoranti siano in crisi ma vi faccio vedere come altre due categorie abbiano la necessità di rinunciare al lavoro parliamo dei pescatori e parliamo degli agricoltori eccolo qua titolo della stampa Ricari del gasolio quasi 9 mila euro in più all'anno al tir questa è una stima nazionale che è stata fatta nei giorni scorsi pensate il conto è aumentato del 50% per chi ha un trattore addirittura del 70% per chi è alla guida di un peschereccio risultato la scorsa settimana in molte zone di mare italiane dove la pesca è naturalmente un'attività molto importante i pescherecci sono rimasti a terra sono fermi non sono partiti per dare un segnale di protesta ma anche perché dicono guardate che a noi non conviene andare in mare perché i costi sono altissimi e già si registrano soprattutto nei mercati più importanti l'assenza di pesce con un calo del 50% della disponibilità e d'altro canto scrive L'Ansa sono aumentati già i prezzi di frutta e verdura che in qualche modo risentono del caro gasolio per gli agricoltori lo scenario che si può presagire come dice il nostro amico ristoratore quest'ora di settimane diventerà ancora più drammatico senatore se andiamo avanti così sì senza voler fare troppo l'allarmista io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno anziché il bicchiere mezzo vuoto ma in questo momento purtroppo è così lo sciopero chiamiamolo così lo sciopero da parte dei pescatori si è avuto proprio come avete detto anche voi perché non conviene uscire ai pescatori in questo momento il prezzo del gasolio sui peschereci della nafta per i peschereci è troppo alto e quindi loro si sono potuti permettere di non uscire e metto tra virgolette la parola permettere cosa diversa invece per gli agricoltori l'agricoltore è costretto a comprarlo il gasolio è costretto ad andare sul campo perché perché il campo quello che ha quello che ha seminato quello che quello che sta per il campo che deve essere arato comunque lo devi fare per forza perché sennò rischi veramente di perdere la stagione nel caso dei pescatori hai perso due giorni di lavoro un giorno di lavoro per dare un segnale una settimana di lavoro una settimana di lavoro ma nel caso dell'agricoltore non la puoi perdere una settimana di lavoro nel caso dell'allevatore non puoi perdere neanche un'ora di lavoro il caro in questo caso non energia non carburante ma energia è devastante per gli allevatori penso anche e qui riprendendo il titolo del titolo di un giornale quando dice che non c'è più pesce noi molto il pesce che viene consumato in Italia arriva dagli allevamenti più che dalla pesca nostra e molto spesso arriva da pesca extra mediterraneo oppure extra Italia quindi il pesce italiano molto spesso è un'eccellenza il pesce italiano molto spesso è un lusso nel nostro paese quindi diventa che manca pesce che manca il pesce diventa un po' comincia a diventare un po' un cercare di fare un po' di troppa dare troppa enfasi alle notizie e quasi lanciare la fake news di turno però mi rendo conto che il mondo agricolo ci rendiamo conto che il mondo agricolo in questo momento è in estrema difficoltà e pensate una cosa nella filiera agricola diciamo dal campo fino ad arrivare alla tavola pensate a quanti trasporti ha bisogno e quante volte c'è bisogno solamente del carburante il carburante che serve all'agricoltore per coltivare senza pensare al trasporto dei semi dall'industria al campo ma pensiamo all'agricoltore il trasporto del prodotto all'azienda di trasformazione il trasporto del prodotto dall'azienda di trasformazione alla distribuzione quindi quanto rincaro c'è in tre passaggi prima di arrivare sulla tavola tantissimo il problema grosso è che cosa sta succedendo in questo momento che per fortuna per noi consumatori un dramma per il mondo agricolo cioè la parte primaria della filiera in questo momento la maggior parte delle catene della grande distribuzione stanno tenendo fermo il prezzo al pubblico perché se voi andate a vedere tranne degli aggiustamenti non ci sono delle esplosioni di prezzo e quindi in questo momento il prezzo del pubblico finale è abbastanza fermo ma chi la sta pagando è tutto il resto della filiera e che prima o poi implode perché se il prezzo del latte non viene adeguato prima o poi non conviene se il prezzo della frutta e della verdura la stessa cosa non conviene se il grano se il mais se la carne se i prosciutti se tutto quello che poi arriva sulla nostra tavola non viene adeguato e non viene eventualmente assorbito da tutta la filiera l'aumento di prezzo iniziale rischiamo che prima o poi qualcuno decide che non produce più certo i margini di guadagno si riducono sensibilmente e la situazione esplode nella maggior parte dei casi in questo momento il problema è questo ma purtroppo tante aziende le puoi chiudere tante aziende puoi decidere come nel caso che abbiamo sentito di produrre di sera anziché di giorno ma la mucca il vitello le galline i conigli i maiali mangiano H24 365 giorni all'anno Presidente Trefiletti quando la crisi arriva anche nel piatto poi lì sono sono dolori anche se va detto che i prodotti della terra non è da mo che rincarano così tanto perché io so che voi consumatori vi avevate denunciato da mesi una rincorsa dei prezzi bravo bravo quindi anche qui viene il sospetto che ci sia anche qui la speculazione guardi voglio ricordare da maggio scorso che denunciamo aumenti a causa delle questioni energetiche le coste di trasporto ha ragione centinaio quando parla anche di speculazioni o comunque cose non molto chiare all'interno della filiera agroalimentare e poi voglio ricordare centinaio lo sa di sicuro noi facemmo a ottobre novembre una conferenza stampa al senato della repubblica dove denunciavamo già queste cose quindi viene da lontano certo la guerra e ricordiamo che tutti ci aspettiamo che ci sia la possibilità di fare in fretta il maggior possibile un accordo di diciamo così di tregua di chiusure eccetera eccetera noi facciamo queste denunce a ottobre novembre al senato quindi il problema viene da lontano hanno ragione quelli che sostengono credo anche allo stesso centinaio che il problema vero è la mancanza di strategia che ha caratterizzato il nostro paese rispetto alla transizione energetica adesso si comincia a muoversi qualcosa ma bisogna accelerare le questioni anche qui oltre a fare una discussione e poi mettere in pratica per esempio con un piano straordinario per quanto riguarda le energie alternative penso al fotovoltaico all'eolico all'idrico eccetera eccetera bisogna in maniera congiunturale intervenire io trovo veramente allucinante che si discuta sul diciamo così sulla legge di bilancio se bisogna fare uno scostamento o meno noi dobbiamo intervenire in maniera congiunturale perché qualsiasi altra scelta sarà lontana nel tempo non so vogliamo fare dei diciamo così del del nuovi nuovi sistemi energetici che possono essere quelli di rigasificare il gas liquefatto ma ci vogliono tempi lunghi qualcuno vuole io no nella maniera più assoluta fare energia nucleare ma ci vogliono dieci anni per riprendere in mano l'energia nucleare e allora il governo è intervenuto noi abbiamo sempre detto in maniera insufficiente spingiamo perché si faccia ben di più ma per esempio sul settore energia si è intervenuti su quei famigerateli oneri di sistema guardate sembra sembra una cosa strana ma sono 14 miliardi all'anno che si pagano nelle bollette il governo è intervenuto per alcuni mesi di fare il blocco e meno male degli oneri generali di sistema ma dovrebbero essere in maniera strutturale portata sotto la fiscalità generale non farli pagare nella bolletta e farli pagare quindi alle famiglie e al sistema di trasformazione industriale che caratterizza il nostro paese noi siamo un paese di trasformazione industriale non siamo un paese che ha le risorse eccetera eccetera e allora bisogna mettere in campo immediatamente sia se no naturalmente tagliare le murie le speculazioni le abbiamo già parlato prima la seconda cosa è mettere in campo subito piani di investimento per le energie alternative la terza cosa nel frattempo contrattare con altri stati per fare una differenzazione degli approvvigionamenti della nostra energia e poi fare agevolazioni per mantenere il nostro tessuto industriale oltre a quello di agevolare le famiglie perché vede il sociologo giustamente intervenuto sui redditi fissi sui lavoratori ma c'è un'altra fascia di cittadini che sta soffrendo ancora di più e sono i cassa integrati quelli che non hanno lavoro sono quelli che campacavallo perché l'erba cresca insomma ci sono altre altre categorie di cittadini che stanno soffrendo in maniera terribile e allora io vi auguro e Centineio deve farsi portavoce di questo lasciate stare discussioni di carattere solo strutturale semmai fate quello che è possibile immediatamente anche attraverso l'utilizzo e ahimè apro una parentesi e la chiudo subito lo stesso pacchetto di NRR di 232 miliardi attenti se va avanti l'inflazione viene depotenziato perché l'inflazione farà depotenziare questo pacchetto di investimenti alla luce dei costi del denaro che appunto procurerà da un lato il depotenziamento e dall'altro lato costi maggiori per gli investimenti e dare lavoro ai nostri giovani queste sono le questioni gravissime che abbiamo di pronte e allora Centinaio fatti portatore di diciamo così di interventi di carattere anche congiunturale molto forti perché dobbiamo salvaguardare la situazione altrimenti e chiudo altrimenti e chiudo c'è un circolo vizioso rispetto a questa questione che se non si interviene diminuiscono per il potere d'acquisto diminuito dall'aumento infernale dell'inflazione diminuirà il potere d'acquisto diminuiranno i consumi e questo ribalterà di nuovo sulle piccole medie imprese e anche sulle grandi poi naturalmente fare la tassazione degli extra profitti vabbè qui mi invitate a nosse ma credo che sia molto complicato e molto difficile però è una cosa da mettere in agenda io la ringrazio veramente Trefiletti perché vedevo Centinaio che stava prendendo nota domani secondo me quando torna a Roma avrà molti argomenti da condividere con i colleghi ministri intanto grazie a lei per essere stato con noi chiaro come sempre grazie a Rosario Trefiletti leader dei consumatori italiani volevo chiedere nei 30 secondi che ci restano un flash al segretario Bruni perché abbiamo capito che il sistema confartigianato cerca di aiutare da subito con i gruppi d'acquisto con l'assistenza ai propri iscritti chi fa impresa però anche voi immagino abbiate delle richieste da fare al governo visto che c'è qui il sottosegretario Centinaio così prende nota anche delle vostre istanze che cosa chiedete per fronteggiare questo momento difficile a parte un controllo di quello che il controllo è messo in atto di quello che ha detto che è stato scritto anche nella finanziaria un aiuto alle aziende per la decontribuzione e le detrazioni fiscali nell'ambito delle spese energetiche molto probabilmente verrà ridiscussa ancora una volta l'aiuto con la cassa integrazione per quanto riguarda l'industria e l'utilizzo dei nostri fondi come il fondo per l'artigianato che è l'FSBA per le imprese che faranno fatica e non potranno e non potranno ovviamente lasciare i lavoratori a casa senza ammortizzatori sociali quindi molto probabilmente verrà ridiscusso ancora il finanziamento della cassa integrazione quindi che adesso era stato chiuso per quanto riguarda la cassa integrazione covid però adesso si riaffaccia la problematica se continueranno queste situazioni e soprattutto se la situazione della guerra proseguirà quindi molto probabilmente avremo metteremo sul piatto queste richieste nel senso che le aziende già che lavorano per aziende quali contoterzisti per aziende che hanno mercati verso l'est la problematica è anche quella di sapere se ci sarà ancora lavoro per tutto l'anno quindi chiederemo anche questo io ringrazio consentitemi di iniziare a salutare Marco Viglini da Stradella abbiamo capito che per fortuna in alcuni ristoranti il suo e tra questi sia ancora possibile godersi un paio d'ore di una cena tranquilla senza lasciarsi condizionare da certi cattivi pensieri spero di averla altre volte in trasmissione magari avremo più tempo anche per raccontare l'eccellenza del Made in Italy dell'agroltrepo che è una cosa che a me piace tantissimo volevo dire una cosa che mi sono dimenticato non è che non ci sono stati aumenti è che dal marzo 2020 ci sono sempre stati dei continui aumenti per cui rientra nella normalità ah certo quello che diceva Trefiletti in realtà purtroppo la guerra ahimè ha soltanto forse aggravato un trend che era già in corso grazie grazie a Marco Viglini ringrazio anche l'onorevole Perego di Cremnago collegato da Milano spero di averla altre volte ospite in trasmissione questa sera si è aggiunto per altri impegni istituzionali in corsa mi spiace non aver avuto più tempo di chiacchierare con lei le auguro intanto buon lavoro e speriamo davvero visto che è in prima linea impegnato anche sul fronte dell'aiuto a chi soffre le conseguenze di questa drammatica guerra russo-ucraina che possano esserci delle svolte positive a breve le auguro una buona serata onorevole grazie grazie mille ce l'auguriamo tutti buona serata a tutti Massimo Sala una chiosa poi io vorrei con l'amico autotrasportatore lasciare a lui gli ultimi secondi di trasmissione perché vorrei capire dopo quello che abbiamo detto questa sera com'è cambiata la sua vita secondo me domani un mutuo può fare per far benzina non credo che abbia altre soluzioni Massimo oltre a mangiare sul cambio ma no la chiosa si può fare riferimento a quello che ha detto secondo me in modo molto preciso e anche stimolante il sociologo la speranza che ritorni l'allegria e che alcuni provvedimenti che vanno fatti siano fatti perché non è facile come ha anche ribadito adesso non ricordo chi andare ad intaccare certi certi guadagni e certe speculazioni e mettere il freno a certi speculatori insomma allora da domani lei torna alla guida dell'auto del suo camion io ho fatto una battuta ma non è cambiato nulla cioè domani va dal distributore altri 2000 euro sì altri 2000 euro è più io come diceva il sociologo io la prendo con il sorriso non mi abbatto vado avanti giorno per giorno però dentro di me c'è sempre un fuoco che arde per il nervoso tra virgolette dato da tutte queste cose e vediamo se domani abbiamo qui il senatore qualcuno che ci potrà dare una mano no non dica di no perché è una buona parola domani credo che mi stia dicendo non vengo più in trasmissione quello l'abbiamo già capito perché questa sera l'importante è che a Roma non si mettino a litigare perché se si mettono a litigare anche a Roma è finito è la fine io penso che a Roma non si stia litigando in questo momento ma si stia cercando soluzioni l'importante è trovare soluzioni vere come ho detto prima trovare quelle soluzioni che servono ai cittadini perché per fare annunci e dire ho messo un miliardo e tutti dicono oh un miliardo e poi se lo dividiamo per x persone alla fine quel miliardo non serve niente e penso anche una cosa e non lo dice un amante dell'Europa ma in una situazione di crisi come questa o l'Europa interviene o i singoli stati non sono in grado quindi con il debito pubblico con quello che si può fare con quello che può fare la banca europea con quello che può fare l'Europa anche perché questa condizione di guerra non è che sia una situazione normale una situazione anomala e quindi è normale che dall'Europa ma ci voglia qualche cosa che l'ha fatto con il Covid bisogna riconoscere bisogna fare come strano che l'ha fatto con il Covid dopo l'emergenza del Covid un'altra emergenza speriamo speriamo che davvero possa segnare un cambio di marcia e di rotta anche in tal senso grazie senatore Centinaio grazie al segretario Bruni viva le imprese sempre perché sono quelle che mandano avanti questo paese grazie anche a voi che ci avete seguito fino alle 23 e 22 Orizzonti termina qui se volete noi torniamo lunedì prossimo a partire dalle 21.10 per provare a capire il presente come diciamo noi un po' tutti danno notizie noi cerchiamo umilmente anche di provare quantomeno a capirle buonanotte a tutti alla prossima buonanotte a tutti buonanotte a tutti